Decima giornata di andata del campionato di Serie A 1 femminile targato Tech Find Questa sera qui in campo la lama San Martino di Luperi contro l'Oxige Roma Basket Ancora da lì attaccare l'uno contro uno, il penetra e scarica per il tiro da tre punti di Turcinovic Sì, venne attrezzate di sicuro, è centimetri ne ha qui, subito svinto Raite Va infatti da Turcinovic che rigioca sul blocco, si prende il palleggio, arresto e tira Che segna subisce il fallo, ma Conte sempre messa da coach piazza sui difensori Alza un braccio, il cambio difensivo, la palla ancora per Ducor Il Romeo con la palla per Dongue, il ribaltamento di lato per Calu che ha lo spazio per alzarsi da tre punti e realizzare Ancora per Conte, Conte a giocare il picarol dentro la palla per Costowicz che segna Sono tre punti dentro la palla per Arado che appena rientrata in campo si gira sul perno, prova l'appoggio di mano sinistra A fare un tiro sofficissimo per andare dentro Qui ancora Costowicz a bruciare In palleggio, va appoggiare altri due punti al tabellone, doppia cifra per lei nei punti realizzati Ma dall'altra parte, Susso ancora i consegnati nell'attacco di San Martino di Luperi Guariz ancora col palleggio vivo, ribalti dentro la palla per 20 Lungo la linea di fondo chiude il palleggio, fuori la palla per Dongue, ancora nell'angolo per Natali che si alza Sul talento dei singoli che sul gioco di squadra come San Martino di Luperi Tutta la partita difensiva in cui si perde veramente una giocatrice Sol col cameriere Adattando questo tipo di difesa è super corsa Qui super ricezione in corsa per iniziare questo terzo quarto di gioco L'uscita la ricezione di Turcinovic, non chiusa dalla difesa di Calu Sfrutta il blocco di Costowicz che si allarga, poi la palla in angolo ancora per Turcinovic Un altro tiro da tre punti allo scadere Il palleggio vivo arriva al blocco di Costowicz, va dall'altra parte, bellissimo Assis Poi per Dalì, lo Luca Appena entra nell'area e appare da solo a seguito il suo movimento Che ridà ossigeno all'attacco di Roma, 59 a 47, ancora dentro Dalì Un'altra bellissima palla per Turcinovic Ancora contro Sol, palla nell'angolo, non ha fatto tanto l'attacco di San Martino Ma ancora dentro Dalì, un'altra volta per Turcinovic Penetra lungo la linea di fondo, fuori per Romeo che dovrà forzare Col tiro in corsa allo scadere dei 24 E' già dall'altra parte San Martino con Dalì che lascia lì Si è capito quando ha fatto il terzo fallo e ha guardato piazza e gli ha fatto segno Gigli che va da Romeo dentro, la palla per Dongue Hanno quattro secondi per trovare Tre secondi, la palla arriva a Conte che prende il tiro su una gamba sola Picherola, ancora l'uno contro uno di Turcinovic Lo scarico fuori per Sol che si sente calda dopo Di San Martino di Luperi, torna Dalì Dentro la palla bellissima ancora per 20 Finisce con la vittoria della Lama San Martino di Luperi 84 a 73 contro l'Oxygen Roma